Yo what's up my god people e benvenuti in questo nuovissimo episodio di ma 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 minecraft Siamo tornati ragazzi e sono contentissimo del fatto che sono riuscito a portare i diamanti nell'ultimo episodio Meno male perché almeno stavolta manca però la cosa principale che dall'episodio 1 me la porto avanti Che è il portare a casa Fernando e adesso abbiamo tutte le carte in regola per farlo Voglio assolutamente fare questa cosa il prima possibile perché con Fernando possiamo appunto andare in giro per il mondo A cercare delle cose nuove in giro esplorare fare cose tipo d'ora l'esplodatrice quindi andiamo a prendere Fernando Abbiamo la nostra scala per salire ormai tutto a posto Allora ho cercato di fare una radura qua per poter fare appunto il recinto per Fernando perché comunque Fernando avrà il suo recinto Però è un po' un casino anche perché casa mia adesso voi la vedete così ma poi più avanti la la ingrandirò e farò anche su altre su altri alberi farò altre cose Vorrei fare anche una torre qua in mezzo al lago dove diavolo sei Fernando eccolo il mio Fernando meraviglioso che è rimasto nella foresta tutto questo tempo Ciao tesoro come stai allora sei proprio qua no che questa è tua sorella ti porto via da qua perché lo so che è molto pericoloso Allora Fernando è a chiazze allora name tag hashtag no del pane che c***o vuoi C'è scritto che devo avere del grano maledizione non lo sapevo porco demonio non ce l'ho io il grano come lo coltivo il grano Devo andare a fottere del grano a Marci o ai ragazzi no vabbè si tratta di due spighe Per poi poterlo utilizzare con Fernando perché se no non ho modo porco il demonio andiamo da Marci Certo ragazzi che il casino è proprio questo cioè nel senso non ci avevo pensato proprio a sta roba Uh del grano l'ho trovato io a posto ah ma aspetta forse qua Liberati i figli di bella faccia che sono polli ma questi sono cose di stefefere L'ho visto di stefefere no ho cambiato spawn point porco demonio devo tornare in casa mia vabbè Eh stefefere scusate un attimo prendo in prestito un grano Basta uno anzi guarda ne prendo in prestito di più poi ve lo riporto Poi tanto ne avete tanto anzi guarda li ho ripianto faccio prima li ho ripiantato il tempo che rigiocate mi ricresce non rompendo Oh 16 ore e mezza all'ora la carota te la do non te la donta a meriti vediamo se riesco col grano Oh te l'ho dato un miliardo e non rompere no ragazzi veramente ce l'ho dato tutto Cioè anche guarda glielo do all'altro piuttosto eh ma cosa vuoi scusa ma perché Glielo ho dato tu oh Hai idea allora la sella Molto bene non so cosa serve la sella in realtà andare più veloce c'è il name tag che lo metto Ma come faccio aspetta 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 fernando e devo uscire allora Ok e come glielo metto il name tag scusa Ah serve il lenvil ma va a cagare Cioè fernando mi stai costando un'eresia però vabbè dai ce la faremo dai ce la faremo Intanto ragazzi mettiamo il recinto per fernando poi pensiamo a mettere l'incudine Porca vacca sai che non lo sapevo questa è tutta roba che non c'era ai tempi Che ragazzi ho spianato qualsiasi cosa tra l'altro oltre che farmi tutto il resto e quindi mi sto ricostruendo tutto Perché effettivamente posso farla molto meglio Ragazzi sto rifacendo tutto perché ho avuto un'idea incredibile Allora ho spianato un po' tutto teoricamente dovrebbe bastare sta roba per farci il recinto intorno Allora adesso iniziamo a farlo tipo così Ok non so se basta eh perché non ho fatto 64 ma potrebbe anche effettivamente non bastare Vamonos c'è l'ultimo pezzo ho fatto tutto un recinto carino e ci posso ficcare dentro fernando E poi andiamo a vedere per l'anvil che è quella cosa che mi servirà un sacco perché se no non riesco a mettere l'anvil Let's go! Fernandino ci ho messo due ore ma ci siamo vieni qua dove sei? Eccoti Allora vediamo se riesco a fare il giro è sempre un casino muovere il cavallo nella giungla Però let's go e vamonos Oh la! Bellissimo! Devo fare tutto molto più accogliente ovviamente ma per adesso per iniziare ti direi che va Vi direi che va benissimo Warquen ce la teniamo qua Ehm mettiamo Che è sto casino? Ah si sta spaccando perché ho rotto l'albero ogni volta mi cago addosso Sarebbe mega utile adesso riuscire a mettere a posto Riuscire a fare l'anvil che è una cosa molto complicata all'inizio Soprattutto se non hai mai giocato a minecraft negli ultimi vent'anni cosa che sono successe le peggio cose L'anvil ci serve per mettere il name tag quindi let's go My brothers vediamo se ha fatto tutto ok Ok allora abbiamo 36 pezzi è giusto? Quindi non è che poi mi faccio i blocchi e poi non servono allora Allora vediamo Uno, due e tre Ok Blocco fire on li metto qua e mi faccio questo Oh! Oh! Una volta che faccio la roba e funziona non voglio crederci Ok Anvil che va assolutamente messa al piano di sotto Io la metto qua l'anvil Perfetto Oh! Adesso name tag Fernando Col punto esclamativo Fernando col punto esclamativo Eccolo qui Grazie Ho usato un punto esperienza ma fa niente Fernando arrivo Arrivo con la roba Ci ho messo due ore a fare tutto sto casino Recinto eh Però oggi abbiamo dedicato la puntata a te Signori! Abbiamo tutto il Fernando a posto Guarda che roba Guarda che roba Amica Sono troppo contento ragazzi Però non mi schiatti Fernando se no muoio e chiudo la serie Allora Fernando ce l'abbiamo Bello carico Bello carico con l'anvil L'ho nominato Tutto fatto Ho usato un sacco di metallo per riuscire a fare questa cosa Ma l'importante è che sia venuto fuori bene Eh bene Adesso abbiamo questo Abbiamo tutto Possiamo fare spedizione a manetta Perché abbiamo un sacco di materiali Possiamo fare tutto ragazzi Direi di andare poi a dare un'occhiata Per vedere se riesco ad andare nel nether a raccogliere qualcosa Per andare nel nether io utilizzerei un portale Che qualcuno ha fatto Utilizzo direttamente quello Tanto il nether è uno Vediamo di andarci Però prima di farlo teoricamente non mi dovrei fare il piccone Di diamante Perché poi alla fine con questa roba va fatta Cioè che cosa la tengo a fare qua Allora io mi farei anche il piccone di diamante Dovrei migliorare casa Però sono tutte cose che faccio poi col tempo Mi faccio solo un altro piccone di ferro Perché effettivamente Questo qua mi sta Io non voglio mai usare quello di diamante a c***o Eh quindi prendo direttamente questo qua Non so effettivamente dove potrei trovare Beh beh basta scendere effettivamente Nelle caverne Qua sono ancora vicino a casa mia Cioè saremo a Boh 200 blocchi L'importante comunque è che Si trovi della lava Beh la lava si trova ovunque ragazzi L'avevo trovata anche con Steph vicino Però voglio andare di sotto Perché nel mentre Se ne trova di più Tra l'altro C'era dell'ossidiana Proprio vicino a casa mia Perché Steph l'aveva trovata Aveva trovato un portale Già quasi costruito Quindi potevo prenderla anche lì Sicuramente Però almeno andiamo a farci un po' di Di spedizione Perché mi serve di nuovo il ferro Che ho utilizzato tutto per costruire Per fare la name tag A quell'altro Aveva appena detto Che non volevo usare Il piccolo diamante a caso Ma chi se ne frega C'è della roba qui Aiuto C'è della roba incredibile Mi ha dato qualcosa La sweet berries Mi ha dato una sega Aiuto Scavati nei piedi Devo prendere la cobblestone E metterla sopra Ok Ok Meno male Meno male Meno male Sono con un pizio Però vabbè ce la faccio Ok Ho rischiato la morte tantissimo Ma proprio Troppo Ma fa niente Ho tutto sto casino Per trovare della lava Per l'ossiliana Cioè niente di che Oh sento lava Sento lava Sento lava Eccola 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 Ce l'ho Ce l'ho Nice Il signor Favi la trova Quals'è quella roba Lì parte il 26 Ma non è che c'è uno spawn Di creeper Sto male Non credo C'è uno spawn Di creeper Nice Quindi C'è un altro creeper Sì Non è uno spawn L'oro è ancora Pino tiri Da peis lazuli Se proprio vogliamo Ne prendo giusto Un paio Giusto per avere qualcosa Ma che cacchio Me ne faccio Dell'oro Qualcuno ha ruttato L'avete sentito anche voi Ah Va bene dai Torniamo a preurco Demonio E' spawnato nel mentre Sto pezzente Ma ho messo le torce Ma scusa Se ho messo le torce Ecco Quello non è neanche esploso Come Vabbè Se spawnate pure con le torce Fratelli miei Che vi devo dire Mamma mia Quanto stiamo in totale di roba 47 di ferro Non male Non male Meno male che ho fatto la spedizione Allora ragazzi È il momento Ci butto una secchiata E via E miniamo sta maledetta ossidiana Vamono E mentre c'è anche qua Ok Abbiamo tutto Sì Let's go Ci siamo My boys È il momento di minare l'ossidiana Ne servono tipo 12 Se non erro Ok my boys Dovremmo esserci Vabbè dai Sti cazzi Basta Non fate un sacco Ho fatto anche un pelo di più Per essere proprio sicuro Al 3000% Che non manchi niente Allora Dobbiamo solo uscire E abbiamo fatto Facciamo la nostra tattica Usciamo normalmente Io uscirei normalmente Cioè Non scavandomi in testa Vamonos Oh Jesus Christ Un casino Eh ma fuori andare così Ci metti Sono risbucato nella miniera C'è una cesta pure C'è incredibile C'è un'altra name tag Un altro Fernando Non mi serve più la name tag Però del pane volentieri Grazie Let's go boys Ho fatto un bel po' di roba C'è anche un sacco di ferro Sto andando sempre più in alto Però mamma mia Quanto ci metto a uscire Non lo so Ma che palle Allora andiamo di qua Ma di qua Aspetta che è illuminato Forse c'è qualcuno Forse ero già passato di qua Tipo Non può essere Guarda Cacchio di roba ho Attenzione che qua Eh Ah ecco vedi che ero già passato Porca vacca E quindi C'è qualcosa Vai 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 Che vedo altra roba L'ho addocchiata Ah no Sono legni Vabbè non fa niente Vai 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 C'è un creeper Cambia strada Oh absolutely Super nice Trovo anche le caverne Questa va proprio sopra Uh Mi sembra Stavo cadendo C'è ho guicchiato la morte Mi sembra della moss stone C'è la serie C'è un altro Non ci credo mai Non ci credo mai Non ci credo mai Non ci credo mai Ho trovato un altro Ho trovato un altro dungeon Porco demonio Aspetta che è pieno di ragni Ho trovato un altro dungeon Non ci voglio credere Non ci voglio credere C'è una name tag Oddio La golden armor Per Per Fernando Non ci No vabbè No vabbè ragazzi No vabbè ragazzi No vabbè non ci credo Non ci voglio credere Ho trovato tutto Tutto La golden armor Ho trovato Name tag Redstone Vai perfetto Buonissimo No ma ragazzi Che culo Cioè mentre uscivo Ho trovato un dungeon No è pazzesca E mo Poi c'è un creeper Lo faccio fuori Vabbè Non ho trovato un'altra Un'altra sella Ma chi se ne frega L'importante è averne trovata già una Tanto non devo domesticare più nessuno Più che altro Ho trovato questo La golden Avrei preferito trovarla Diamond Però vabbè dai Chi se ne frega Cioè A cavaldonato Non si guarda in bocca In questo caso Vamonos Oddio sto spuntato Ma non ci credo Ma sto spuntato a casa di Fere Ma come Ma cosa Ma quante probabilità c'erano No vabbè Non ci voglio credere Non ci voglio No ragazzi No vabbè Non so Non so come descrivere questa cosa Ve lo giuro Ma con quante probabilità No ma è pazzesco Pazzesco Vi giuro Come Con quante probabilità Potevo cascare Fuori dalla casa di Steph e Fere Con sto casino Con quante Poche Impossibile C'era un dungeon Sotto casa di Steph e Fere Sotto proprio Un metro Guarda Veramente non ho parole Meraviglioso Vabbè dai Torniamo a casa Prossimo episodio Net Ci vediamo Ragazzi Prossimo episodio Come al solito Se il video vi è piaciuto Lasciate un bel like Sia io che Fernando Che coperto dalla pioggia Perché la casa fa Un bel lucio Come sempre Ci vediamo Ad un prossimo video Bello ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti